La fondazione Mondragone è nata come museo della moda nel 2003, però risale già al 1600-1700 dove la nobile donna Elena Aldobrandini donò questo complesso alle giovani oblate che erano cadute in bassa fortuna per insegnare loro il mestiere del cuscito. Quindi la fondazione si è sempre dedicata al cuscito e alla moda. Oggi noi abbiamo dato uno spunto completamente nuovo perché ci siamo adeguati a quelli che sono i canoni della museologia moderna, luogo dove si fa cultura, dove in particolare i giovani possono sfruttare gli spazi. Viviamo con i soli contributi della regione Campania. Io sono stata nominata prima amministratore commissario straordinario perché versava il museo in una situazione debitoria difficile. Adesso finalmente grazie al contributo della regione, la sensibilità che ha avuto la regione Campania e siamo riusciti a pareggiare nel bilancio, a sapere che noi siamo destinatari dei fondi POC, in piccola parte, però in piccola parte noi riusciamo a fare tutto. Abbiamo infatti da poco ristrutturato un'intera ala di questo complesso monumentale che ora ospita la mostra della Casa del Guanto che è già dal 600 che non si facevano i lavori e quindi con pochissimo noi siamo riusciti a creare una galleria di arte espositiva molto bella. Quindi anche con pochi fondi si riesce a fare se si lavora bene e se si ha la volontà di fare le cose. È stato interessante questo incontro proprio perché poi il MODEC, grazie anche al contributo dell'assessore Marchiello alle attività produttive, in effetti la moda e siamo come politica regionale quella di recuperare quella che è la tradizione storica campana. La regione campania ha una tradizione grande, noi abbiamo dei brand che magari vanno all'estero, oppure insomma sono conosciuti in altre parti d'Italia, ma noi dobbiamo cercare anche di dare, non di regionalizzare perché abbiamo una visione ampia delle cose, però almeno recuperiamo quella che è la nostra tradizione storica e penso per esempio alla moda maschile. Noi come museo abbiamo aperto un'ala del museo dedicato proprio alla moda maschile perché c'è una tradizione che affonda le sue radici sin dall'Ottocento e quindi Napoli è stato il faro, un poco in tutta Europa, anche la Belle Epoque, che gli uomini erano elegante, erano charman, vestivano e quindi vogliamo anche recuperare questa tradizione. Il convegno di oggi nasce all'interno della Tre Giorni, organizzata dal MODEC. In tale ambito, questo ci teniamo molto a dire, abbiamo inserito non solo una parte espositiva come ben è stata esposta ed illustrata la mostra ad oltremare, ma abbiamo voluto inserire anche dei contenuti culturali. Oggi è importante molto la cultura del corpo e gli stereotipi che purtroppo ci vengono propinati creano malessere nei giovani e quindi si ha questa voglia di apparire sempre secondo uno stereotipo e di non accettarsi che come si è. Quindi oggi noi avremo a confronto degli studiosi, abbiamo non solo la presenza di filosofi, abbiamo la presenza di una psicoterapeuta e avremo anche il chirurgo plastico e poi ci saranno ovviamente la presenza delle istituzioni e nel pomeriggio avremo come ospite una figura iconica della bellezza che è Valeria Marini. Grazie. Grazie.